Uno dei dati a cui gli investitori prestano maggiore attenzione prima di investire su un'azione è sicuramente il free cash flow. Ma che cosa è di preciso? Come funziona? Perché è così importante nel mondo degli investimenti e soprattutto come si fa a calcolarlo? Quest'oggi tratteremo per appunto questo argomento. Io vi ricordo che se per caso vi foste persi lo scorso video dove parlavo del rapporto prezzo-utili, un indicatore molto importante per capire se un'azione sia sopravvalutata o sottovalutata al mercato, allora trovate il link a quel video qui sotto in descrizione. Detto questo, iniziamo con il video di oggi. Il free cash flow è un indicatore chiave per capire lo stato di salute finanziaria di una società. In pratica rappresenta la quantità di denaro che un'azienda genera dopo aver coperto le spese operative e gli investimenti per il mantenimento e per lo sviluppo del business. Il free cash flow ha un ruolo veramente cruciale perché rappresenta quella somma di denaro che l'azienda può sfruttare per pagare gli azionisti, per potersi espandere, fare nuovi investimenti, per poter pagare e ridurre il proprio debito e anche per affrontare sfide e imprevisti come ad esempio una recessione. Si tratta di un indicatore chiave per analizzare l'assolvibilità di un'impresa, nonché la sua capacità di finanziare dei progetti in futuro. Se un'azienda riporta un free cash flow positivo significa che ha abbastanza liquidità per poter finanziare nuovi progetti. Se invece riporta un free cash flow negativo può significare che l'azienda stia attraversando una difficoltà finanziaria. Magari potrebbe significare che stia facendo i conti con una crisi di liquidità, per cui potrebbe essere costretta a ricorrere a finanziamenti esterni per poter coprire le sue spese correnti. Per esempio l'azienda WeWork dal 2020 al 2023 ha riportato sempre un free cash flow negativo, il che è un campanello dell'arbe, perché sta a indicare che l'azienda ha speso molti più soldi di quanti ne abbia guadagnato dalle sue attività operative. Questo è un business che non gode di una buona salute finanziaria, per cui bisogna stare attenti ed è meglio starle alla larga. Per trovare il free cash flow bisogna sottrarre investimenti in capitale dal cash flow operativo. Il cash flow operativo rappresenta la somma di denaro che l'azienda genera da tutte quelle attività che sono le attività principali dell'azienda. Quando il cash flow operativo è positivo significa che l'azienda genera più soldi dalle sue attività principali di quanti ne stia spendendo, il che è ottimo. Invece gli investimenti in capitale, noti anche come capex, rappresentano il somma di denaro che l'azienda investe nell'acquisire altre aziende, nell'espandersi e anche nel migliorare gli asset fisici di lungo periodo. Mi riferisco per esempio ai macchinari, agli impianti, agli edifici e anche ai terreni. Ecco, questi investimenti sono molto utili perché servono per migliorare l'efficienza dell'azienda e per migliorare anche la sua attività produttiva. Tutti i fattori che le permettono poi nel lungo periodo di migliorare la sua crescita e di espandersi sempre di più. Un free cash flow sano suggerisce che un'azienda stia generando più liquidità rispetto a quella di cui ha bisogno per poter coprire le sue esigenze operative e di crescita. Per cui sta a indicare una gestione ottimale delle proprie risorse finanziarie. Gli investitori spesso guardano al rapporto fra il free cash flow e l'utile netto per capire effettivamente quanti soldi una società conservi rispetto all'utile rispetto al guadagno riportato. Ma facciamo un esempio pratico. Ipotizziamo che l'azienda tecnologica Techsoft durante il 2022 abbia riportato 750.000 euro di free cash flow e 500.000 euro di utile netto. In questo caso se facciamo rapporto fra questi due valori ci viene fuori 1,5. Questo che cosa significa? Significa che l'azienda per ogni euro di utile riportato ha generato 1,5 euro di free cash flow, il che è molto positivo. Infatti un valore superiore a 1 può indicare che la società stia utilizzando in maniera ottimale le proprie risorse finanziarie. Mentre quando il valore è inferiore a 1 oppure quando è basso può indicare che l'azienda stia utilizzando in gran parte il proprio profitto netto per gli investimenti in capitale oppure per coprire le spese correnti. Spese che chiaramente non contribuiscono ad aumentare i flussi di cassa. Ma ora ragazzi facciamo un altro esempio pratico. Ipotizziamo due aziende nell'ambito farmaceutico che durante il 2022 hanno riportato entrambe un utile netto pari a 10 milioni di euro. Però fra le due c'è una differenza significativa per quanto riguarda il free cash flow. Infatti l'azienda A ha riportato un free cash flow pari a 15 milioni di euro. Mentre l'azienda B ha riportato un free cash flow pari a solamente un milione di euro. Qual è il migliore investimento guardando solamente questi dati? Beh è chiaro che il migliore investimento è l'azienda A. Infatti l'azienda B pare che abbia reinvestito in gran parte il suo profitto netto per coprire le sue esigenze operative e le sue esigenze di crescita per mantenere vive le sue operazioni. Però questi reinvestimenti potrebbero tradursi in un effetto negativo. In quanto durante uno scossone di mercato oppure di fronte a delle crisi economiche questa azienda sarebbe molto più vulnerabile rispetto all'azienda A che vanta un free cash flow molto più alto e quindi è capace di espandersi, di pagare gli azionisti, di poter acquisire altre aziende e soprattutto di far fronte ai propri obblighi finanziari, di ridurre il debito e di poter anche far fronte per appunto a delle difficoltà economiche come può essere una grande crisi. Quindi ragazzi in conclusione possiamo dire che noi investitori prima di investire in un titolo dobbiamo essere molto attenti ad analizzare per appunto i dati riportati e non dobbiamo guardare solamente l'utile netto ma soprattutto il free cash flow perché di fondo è il denaro che l'azienda riesce ad accumulare e che le serve per poter rimanere stabile, rimanere in piedi e affrontare grandi difficoltà finanziarie. Di solito un free cash flow ben consolidato e ben corposo può indicare che l'azienda sia molto più capace di resistere a degli scossoni di mercato e a delle difficoltà finanziarie. Quindi ragazzi mi raccomando prendete sempre delle azioni consapevoli quando volete investire in mercati finanziari e analizzate sempre questi indicatori che sono veramente cruciali da guardare e osservare. Quindi per oggi è tutto grazie per la visione di questo video spero che vi sia piaciuto e mi raccomando qui sotto nei commenti fatemi magari sapere quale altro indicatore vorreste che vi approfondissi in un prossimo video. Ciao e alla prossima!